Buonasera a tutte le persone collegate che ci stanno ascoltando. Siamo al secondo appuntamento di promozione del corso che si terrà a fine aprile per volontari nell'ambito della salute mentale. Ricordiamo che il corso si svolge all'interno del programma Comunità Solidali e che la partecipazione al corso sarà completamente gratuita. La Fondazione di Legro da anni si occupa della salute mentale e del volontariato nell'ottica del benessere psicosociale. Ha condotto e partecipato a numerosi progetti offrendo servizi e costruendo una rete sul territorio proprio nell'ottica comunitaria di sostegno a diversi beneficiari. Nell'ottica di costruire e promuovere una cittadinanza attiva nell'ambito della salute mentale oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottore Alessandro Vento, psichiatra e responsabile dell'Osservatorio sulle Dipendenze di Roma che ci appunto parlerà un po' del suo punto di vista sul volontariato nell'ambito della salute mentale e dell'importanza della prevenzione in questo ambito soprattutto nel post pandemia in questi anni abbastanza particolari. Quindi benvenuto dottor Vento e vorremmo avere appunto anche un suo parere e le chiedo quindi di parlarci un po' dell'importanza del volontariato nell'ambito della salute mentale. Prego. Allora, il volontariato in salute mentale è di particolare importanza per una serie di motivi. Intanto perché si avanza sempre di più l'ipotesi che oramai è certa che la prevenzione sia lo strumento di intervento più importante in salute mentale nell'area delle dipendenze e la prevenzione non può essere delegata solamente a apparati di tipo clinico, quindi i dipartimenti di salute mentale o le strutture che hanno proprio una vocazione di tipo clinico ma la prevenzione passa attraverso l'intervento proprio della cosiddetta società civile, quindi della cittadinanza attiva e quindi il riconoscimento precoce per quanto riguarda la prevenzione primaria di tutti quei fattori di rischio che possono incidere sui più giovani, sui bambini, sui ragazzi. Ormai sappiamo in maniera assolutamente certa che l'inizio delle psicopatologie, quindi delle patologie che hanno un impatto sulla salute mentale delle persone è proprio collocabile nell'età infantile e adolescenziale. Possiamo dire citando Maria Montessori che il bambino è il padre dell'uomo, vale a dire è proprio in quell'età che cominciano ad esserci delle alterazioni, delle difficoltà che poi riscontriamo nella psicopatologia conclamata dell'adulto. E quindi tutti quei volontari, tutte quelle persone che per interesse personale o comunque per un ruolo di collaborazione all'interno della società, del gruppo sociale vogliono partecipare e quindi vogliono acquisire delle competenze rispetto a che cos'è la salute mentale e rispetto a come si può interagire con bambini, adolescenti o giovani adulti nella prospettiva di aiutarli, di fare un lavoro di rete, di saperli consigliare per esempio rispetto a quali servizi, a quale strutture interpellare nel momento di bisogno e di difficoltà. Quindi il tema importante che sicuramente come tutte le iniziative rivolte al volontariato della Fondazione di Liegro o del gruppo di lavoro in senso più allargato, alle quali ho avuto il piacere di partecipare negli ultimi anni sono iniziative che hanno una fortissima vocazione, un fortissimo interesse nei confronti della prevenzione non solo quella primaria di cui parlavo prima, ma anche la prevenzione secondaria quindi il riconoscimento tempestivo della diagnosi, se c'è, e il riconoscimento delle ricadute queste cose qui sono molto importanti e a questo possono contribuire tutti i volontari se naturalmente formati all'interno di un processo così ben articolato come quello di cui stiamo parlando e che stiamo presentando. Ad esempio mi riferisco anche all'intervento che si può fare nelle scuole. I docenti delle scuole possono essere abilitati, possono essere formati a riconoscere alcuni campanelli d'allarme quindi a promuovere interventi precoci proprio di prevenzione ancora quello che succede all'interno delle strutture sportive l'osservazione nei circoli sportivi, nelle attività di gruppo con i pari quindi quello che può fare un volontario formato in contesti come quelli di cui sto parlando è una cosa veramente molto preziosa nell'ottica della prevenzione e quindi ha una eco importantissima sulla salute mentale in senso più ampio, sulla qualità della vita e sul contesto sociale. Possiamo parlare anche del rapporto che c'è tra supporto sociale quindi tra tessuto sociale e consumo di sostanze e comportamenti di addiction, di dipendenza in senso più ampio. Consideriamo anche che negli ultimi due anni il tema dell'isolamento sociale legato alla pandemia Covid-19 ha molto peggiorato l'aspetto del tessuto sociale debole quindi molte persone si sono trovate in una condizione veramente di grave deprivazione sociale e l'intervento del settore terziario, del volontariato e di tutti i gruppi di lavoro che si interessano a favorire la partecipazione sociale quindi la cittadinanza attiva, la partecipazione alla vita del quotidiano della comunità intesa come in senso più allargato può prevenire e migliorare il decorso dei disturbi psichici e comunque la salute mentale in senso più generale nonché l'impatto e la prevalenza dell'uso di sostanze sui soggetti più fragili, sui soggetti più vulnerabili. Per tutti questi motivi io consiglio vivamente di partecipare al corso di visionare con attenzione e di raccogliere spunti da questo tipo di iniziative e credo fermamente che il futuro della salute mentale sarà un futuro di condivisione dell'intervento e non solo di matrice sanitaria sebbene l'aspetto sanitario sia molto importante perché è quello che poi deve coordinare le iniziative appunto a valenza psicosociale o comunque non sanitaria ma che comunque il contributo dei volontari sia un contributo veramente importante e massiccio da un punto di vista qualitativo e quantitativo. Quindi il corso sarà anche rivolto a studenti in formazione e alla fascia di età giovanile cercando di portare all'interno una serie di informazioni importanti sia sul tema della salute mentale e della prevenzione come abbiamo detto che anche sull'area delle dipendenze si affronterà il tema delle dipendenze da strumenti tecnologici come dallo smartphone e questo nella prospettiva integrata appunto di promuovere il giusto utilizzo di questi strumenti ed un livello di tessuto sociale che riesca poi a bilanciare l'aspetto virtuale rispetto a quello invece dell'incontro in presenza con le persone. Consideriamo anche che alcuni temi come quello della scuola a distanza hanno determinato tutta una serie di informazioni importanti per la salute mentale e che verranno condivise nell'ambito del corso e quindi parleremo anche dell'impatto della rivoluzione diciamo tecnologica che ha a che fare sia con il lavoro che con la didattica a distanza quindi il confrontarsi con queste nuove realtà e tutto quello che può produrre da un punto di vista dell'equilibrio personale della salute mentale quindi nell'ambito del corso questi temi verranno affrontati e verranno formati in qualche maniera i partecipanti ad una prevenzione anche nell'utilizzo sproporzionato delle tecnologie. Ringraziamo il dottor Vento per l'importante testimonianza nell'ottica proprio dell'esperienza anche del volontariato in quest'ambito abbiamo il piacere di avere con noi una volontaria della fondazione Silvia che porterà la sua esperienza soprattutto dal punto di vista come dicevamo dei giovani e dell'importanza anche dell'esperienza che possono fare i giovani in quest'ambito. Prego Silvia. Buonasera a tutti, io sono Silvia sono una volontaria della fondazione sono entrata in contatto con la fondazione ormai un po' di tempo fa perché ero alla ricerca di un qualcosa in più che il mio percorso di studi in psicologia sentivo che non stava offrendomi infatti non avevo ancora avuto un'esperienza diretta nell'ambito della salute mentale all'interno del territorio e dopo essermi iscritta al corso per i volontari offerto dalla fondazione ho iniziato a partecipare ai laboratori e a tutte le attività che la fondazione offre agli utenti questo contatto diretto mi ha consentito sicuramente a migliorare la mia professionalità ad arricchire il mio bagaglio e mi ha consentito anche di entrare in alcune realtà di cui non era a conoscenza scoprire i servizi all'interno del territorio in modo più approfondito e in modo più diretto e mi ha aiutato anche molto a svolgere meglio il mio lavoro da youth worker infatti anche in altri ambiti in cui spesso mi trovo ad avere a che fare con i giovani tutte le risorse che ho acquisito in modo esperienziale in quanto volontario sento di poterle investire e riutilizzare anche in altri contesti devo dire che questa esperienza di volontariato all'interno della salute mentale nello specifico è stata senza dubbio essenziale per me, per la mia formazione per rendermi anche più pronta una volta finito il mio percorso di studi sentivo proprio la necessità di colmare alcune lacune di vivere determinate cose in modo più pratico e non solamente teorico allo stesso tempo sento di consigliare comunque ritengo che il volontariato all'interno della salute mentale non sia solo per gli addetti ai lavori quindi non solo per le persone che si occupano o studiano psicologia o psichiatria o che sono prettamente nell'ambito sanitario ma è un'opportunità di volontariato utile a tutti dai più giovani alle persone più grandi, più adulte dalle famiglie appunto agli adolescenti che sono perennemente a contatto con la propria psiche e la propria salute mentale dal momento che poi come ha detto anche il dottor Vento siamo stati negli ultimi anni investiti da questa situazione che ha comunque coinvolto da un punto di vista mondiale la salute mentale di tutti credo che sia veramente importante da un punto di vista del territorio e da un punto di vista anche individuale in quanto cittadini attivi di rendersi conto della rilevanza della salute mentale dei nostri cari della nostra prima di tutto e anche delle persone che costruiscono una società insieme a noi Grazie Silvia per la tua testimonianza e appunto abbiamo visto come è importante e costruttivo fare delle esperienze nell'ambito della salute mentale anche nei momenti appunto di formazione della vita e anche appunto per chi vuole dare un contributo nell'ambito del benessere della salute mentale al resto della cittadinanza Ci vediamo mercoledì prossimo 30 marzo alle ore 18 per il terzo appuntamento con il dottor Paolotti avremo il piacere di ascoltare anche il suo punto di vista nell'ambito del volontariato della salute mentale Grazie a tutti e a mercoledì prossimo Grazie a tutti